Tre operai agrigentini di rete ferroviaria italiana sono stati travolti e uccisi ieri in contrada Falconara a Butera dal treno regionale 12.852 Gela-Caltanissetta. Le vittime sono Vincenzo Riccobono, 52 anni di agrigento, Antonio Laporta, 53 anni di Porto Empedocle e Luigi Gazziano, 60 anni di Aragona. I tre stavano lavorando sulla linea ferrata quando improvvisamente sono stati investiti in pieno dal treno. Tempestiva la chiamata dei soccorsi che però è risultata vana. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo plurimo a carico del macchinista del treno che era composto solo da una carrozza automotrice. Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Gela. Secondo i primi accertamenti, le vittime non si sarebbero accorte dell'arrivo del mezzo che procedeva a bassa velocità e si è fermato dopo l'impatto a circa 200 metri di distanza. I tre che lavoravano dopo una curva sono stati colti di sorpresa ed evidentemente non hanno sentito arrivare il treno. E pare non ci fossero sul posto strumenti per segnalare la presenza degli operai. Anche RFI ha avviato le indagini interne per accertare le cause dell'incidente.